Entra nel locale, si avvicina a un uomo, lo abbraccia e gli spara un colpo di pistola alla testa, poi con l'arma in pugno fa il giro della stanza tra gente impietrita e gente che in preda al panico si lancia dalla finestra e alla fine fa fuoco contro se stesso. Non è la scena di un film ma è l'omicidio suicidio avvenuto nella tarda serata di ieri in una sala biliardo al primo piano di un capannone in via Fonda di Mezzana a Prato. Le telecamere di sicurezza installate nella sala da gioco hanno ripreso tutto, le vittime sono due cinesi di 55 e 56 anni, la polizia è arrivata sul posto intorno alle 23 e 30, la segnalazione ricevuta qualche minuto prima parlava di spari e di due morti e questo effettivamente hanno trovato gli agenti della squadra mobile, il magistrato e il medico legale e mentre la dinamica dei fatti è chiara non lo è affatto il movente, l'uomo che è stato freddato a bruciapelo sarebbe un personaggio di spicco della comunità cinese, l'omicida suicida risulterebbe residente in Sicilia. I tre connazionali che si sono lasciati cadere nel vuoto per paura di finire nel mirino dell'aggressore, tutti e tre sono stati portati al pronto soccorso conferiti alle gambe e alle braccia, sono stati ascoltati dagli investigatori che dalla notte scorsa stanno mettendo in fila tutto quello che può servire a ricostruire la vita delle due vittime, gli ultimi contatti, eventuali liti passate o vicende che possano spiegare il motivo dell'omicidio suicidio. Non ci sono piste privilegiate seppure quella economica, anche solo per il contesto nel quale la vicenda si è consumata sembra la più sostenibile. Numerosi gli accertamenti a cominciare da quelli su un'auto di grossa cilindrata lasciata nel piazzale della sala biliardo con i finestrini abbassati e il quadro acceso e accanto alla quale è stato rinvenuto un proiettile. Si tratterebbe della macchina con cui il cinese armato è arrivato sul posto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza installate fuori dal capannone. Dai video potrebbero emergere ulteriori particolari utili all'inchiesta.